Le sei del mattino, buongiorno a tutti, siamo all'alba del quarto giorno di una vertice lunghissimo, forse abbiamo stabilito i record, anche abbiamo superato per durata il vertice di Nizza, siamo soddisfatti, abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso, adeguato a queste necessità che stiamo vivendo, che ci consentirà di affrontare questa crisi con forza, con efficacia, è un momento storico per l'Europa, è un momento storico per l'Italia, la nostra richiesta, la convinzione che abbiamo nutrito in questi mesi, la visione, la determinazione con cui abbiamo perseguito questo obiettivo sono state premiate, il piano di rilancio che abbiamo approvato è davvero molto consistente, 750 miliardi, dei quali una buona parte andranno all'Italia, il 28%, parliamo di 209 miliardi destinati all'Italia, addirittura abbiamo anche migliorato l'intervento a nostro favore, se consideriamo la proposta originaria della Commissione Europea della Presidente von der Leyen, abbiamo conservato gli 81 miliardi a titolo di sussidi, abbiamo incrementato notevolmente l'ammontare e l'importo dei miliardi concessi in prestito, sono passati dal 91 a 127 miliardi registrando un incremento di 36 miliardi, avremo una grande responsabilità, con 209 miliardi dobbiamo avviare la possibilità, abbiamo la possibilità di far ripartire l'Italia con forza, di cambiare volto al nostro Paese, ora dobbiamo correre, dobbiamo utilizzare questi soldi per investimenti, per riforme strutturali, dobbiamo intraprendere quel percorso di crescita economica, di sviluppo sostenibile che stiamo perseguendo da anni senza effettivamente raggiungerlo quantomeno con efficacia, abbiamo la concreta possibilità di rendere l'Italia più verde, più digitale, più innovativa, più sostenibile, più inclusiva, di investire nella scuola, nelle università, nella ricerca, nelle infrastrutture. Abbiamo conseguito questo risultato tutelando la dignità del nostro Paese, ma abbiamo anche agito per tutelare l'autonomia, le prerogative delle istituzioni comunitarie. Abbiamo respinto in questi giorni anche tentativi, insidiosi, in qualche modo di alterare la genuina vocazione di questo progetto europeo, inserendo, facendo intervenire logiche intergovernative e la logica dei veti incrociati. Devo ringraziare tutti i ministri, tutti i ministri che mi hanno sostenuto. Siamo una grande squadra. Devo ringraziare anche le forze di maggioranza che unite e compatte hanno sostenuto l'azione del governo. Devo ringraziare anche le forze di opposizione. Soprattutto alcuni loro esponenti, pur tra legittime critiche, hanno ben compreso in questi giorni l'importanza storica della posta in gioco. E permettetemi infine di ringraziare tutti gli italiani. In questi giorni sono stato molto impegnato. Non ho avuto la possibilità di seguire molto il dibattito interno, ma ho avvertito forte il sostegno di tutta la comunità nazionale. Sono orgoglioso per questo risultato. sono orgoglioso di essere italiano. E adesso le domande. Chinzari, Tg1. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Visto che lei, comincio con una battuta, ha detto che ha fatto il cucchiaio all'Olanda, io allora le faccio più di una domanda. Innanzitutto quale aspetto dell'accordo lo ha più soddisfatto, se la montare dei fondi o le modalità di gestione. Due, come spendere bene questi soldi? E se questo accordo rafforza il Governo e migliora il quadro politico, visto che una parte dell'opposizione ha tifato per il Governo in quanto difensore degli interessi italiani. Grazie. Guardi, per quanto riguarda l'aspetto che mi piace di più, beh, innanzitutto sicuramente mi piace la novità dello strumento il fatto che sia un intervento consistente, adeguato alla crisi che stiamo vivendo. E poi mi piace ancora di più che siamo riusciti non solo a confezionare un piano finanziario veramente consistente per favorire la ripresa dei paesi più in difficoltà e quindi rilanciare l'Europa, ma l'abbiamo fatto anche avendo ben presente delle priorità e quindi favorendo la transizione ecologica, energetica e anche quella digitale. Quindi non abbiamo rinunciato anche a indirizzare la ripresa verso quelli che sono degli obiettivi politici ben precisi che condividiamo sia a livello europeo che a livello interno. Per quanto riguarda come spenderli, beh, sicuramente abbiamo già predisposto, non vi sarà sfuggito nei giorni scorsi, un piano di rilancio, lo abbiamo condiviso con le forze di maggioranza, con i ministri, l'abbiamo presentato a tutto il Paese, alla società civile, a tutte quelle associazioni, quei cittadini che sono sfilati a Villa Panfili e adesso abbiamo ovviamente la necessità di metterci al lavoro da subito per individuare bene i progetti da presentare per chiedere e ottenere i finanziamenti europei. Quanto al fatto che questo passaggio possa o meno rafforzare il governo italiano, dico il governo italiano è forte e la verità è che questa approvazione, l'approvazione di questo piano rafforza, questa sì, l'azione del governo italiano, perché ci permette di poter fidare di consistenti risorse finanziarie per raggiungere quegli obiettivi che abbiamo già individuato e che ora andremo a declinare in modo concreto. Matera, dell'ANSA. Dottoressa Matera, il collegamento? Ecco il Presidente, mi sente? Sì, adesso sì. Buongiorno. Buongiorno. Lei fino all'ultimo si è abbattuto, come ha accennato, sul meccanismo di governance soprattutto. Le volevo chiedere se ha mai pensato che nel confronto con Rutte questo punto potesse far saltare l'accordo e se ritiene di aver raggiunto un risultato che eviti la possibilità che l'erogazione dei fondi possa essere bloccata da un singolo paese o comunque rallentata. E poi le volevo chiedere a proposito di un dibattito che è molto presente in Italia, se a questo punto, vista la portata del Recovery Fund, ritiene meno necessaria una valutazione sull'accesso ai fondi del MES che ieri è stato sollecitato anche dal segretario del PD Zingaretti. Grazie. Grazie a lei. Se ho mai pensato che potesse saltare l'accordo sui problemi di governance su cui abbiamo molto discusso in questi giorni, no, direi di no. Non l'ho mai pensato. Ho pensato che era una questione assolutamente dove noi avevamo una linea rossa che non avremmo quindi mai lasciato che nessuno oltrepassasse e cioè il fatto non avrei mai consentito e non avrei mai concesso a nessun paese il diritto di veto o di intromissione su quella che è l'attuazione di questo piano di riancio nazionale. Ovviamente è giusto che ci sia un sistema di verifiche, perché stiamo parlando di fondi europei ed è giusto che questo sistema di verifiche sia anche stato elaborato, concepito in relazione agli stati di avanzamento dei progetti e quindi di implementazione e realizzazione degli stessi. Ma certo era una pretesa inaccettabile che un singolo paese addirittura potesse decidere sino al veto dell'erogazione dei fondi, potesse esercitare dei poteri di intromissione sino a questo punto. Non l'avrei mai concesso, non l'ho concesso e sono soddisfatto del risultato che abbiamo raggiunto. C'è anche la possibilità con un cosiddetto freno di emergenza di portare, se c'è una questione particolarmente delicata, complessa, c'è il sospetto che ci siano deviazioni molto significative rispetto a quella che è l'attuazione e la questione può essere portata anche a livello politico all'attenzione, in casi eccezionali all'attenzione del Consiglio europeo, ma certo non si dà a nessun paese la possibilità di invadere quelle che sono le competenze della Commissione nella fase attuativa del piano, che sono competenze specifiche e quindi tutta la procedura rimane nella competenza della Commissione. Mi ha chiesto poi anche del MES, il MES che abbiamo discusso tanto e immagino continueremo a parlarne, la mia posizione non è mai cambiata, il MES non è il nostro obiettivo, il nostro obiettivo è valutare qual è il quadro di finanza pubblica, valutare quali sono le necessità e una volta definiti tutti i piani, il ventaglio degli strumenti a disposizione, utilizzare quelli che sono nel migliori interesse dell'Italia. Sicuramente il piano che oggi approviamo è un piano con i 209 miliardi che ha un'assoluta priorità nell'interesse dell'Italia, ci sono dei prestiti molto convenienti, molto consistenti, con una maturità lunghissima, quindi molto vantaggiosi, sarà questa la priorità e spero che questo possa contribuire a distrarre l'attenzione morbosa che circonda il MES. Ancora mi ha fatto la domanda sulla... credo che ha risposto a tutto, non ricordo altro, poi la recuperiamo se ci fosse ancora qualche altra domanda in evasa, invece adesso tocca a basso del Corriere. Buongiorno Presidente, partendo proprio dalle sue parole, cioè guardando al futuro, a che punto è la task force che si dovrà occupare di preparare il piano? Perché il piano sarà molto complesso, dovrà essere dettagliato, l'avete già individuata e nel caso chi sarà alla guida? Grazie. Guardi, come ho già detto, noi abbiamo già lavorato al piano di Diancio, abbiamo già elaborato dei progetti e condiviso con tutte le componenti della società, rimane un ultimo confronto con le opposizioni, dopodiché avremo un quadro definito per quanto riguarda i progetti, dovremo ovviamente andare a declinare la priorità degli stessi, quelli che andremo poi, dovremo individuare quelli da selezionare in prospettiva europea. La costituzione di una task force operativa, al di là già di uno staff che ha già lavorato al piano di Diancio, sarà definita, sarà una delle priorità che andremo a definire in questi giorni perché dovrà partire al più presto. A questo punto ringrazio tutti e buon lavoro.